Musica Trovata morta in un appartamento del progetto case di Paiare di Sassa, è la sorte che è toccata ad una donna di 75 anni. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, il decesso risale a qualche giorno fa. I parenti, non sentendola da alcuni giorni, hanno allertato la polizia di Stato, che ha forzato la porta dell'appartamento trovandola senza vita. Si tratterebbe, secondo sempre le prime ricostruzioni dei fatti, di morte naturale, in quanto l'appartamento è stato trovato in ordine e sul corpo nessun segno di violenza. Sarà l'autopsia ora a chiarire le cause del decesso. Il corpo della donna è stato restituito anche ai familiari per le esequie. Acqua è agitata in casa dell'Aquila Calcio, dove la sconfitta casalinga con il Siena sembra aver condannato il Rosso Blu ai play-out. La scossa attesa dalla società, con l'esonero di Perrone e l'arrivo di Modica non è arrivata. E per questo da oggi, tutti sono in silenzio stampa, per concentrarsi sulle prossime tre partite, utili per cercare di guadagnare posizioni utili in vista degli spareggi salvezza. Utile anche per non dare spazio a ulteriori polemiche, dopo il rovente post-partita, che ha visto protagonisti un gruppo di tifosi e i calciatori Chireletti e San Domenico. I tifosi avrebbero criticato duramente i calciatori, uscendo dallo stadio con amici e parenti, che secondo quanto appreso avrebbero reagito alla provocazione. Lo scontro verbale sarebbe sfociato in un accenno di rissa, sedato a fatica dagli agenti di polizia e della Digos, di cui si attende il rapporto per verificare responsabilità ed eventuali sanzioni. Il segnale è preoccupante. Fatti del genere, oltre ad essere gravissimi, testimoniano un'attenzione che non aiuta in vista del finale di stagione, che sarà tutto in salita, in linea con il campionato, che tra penalizzazioni, esoneri e risse, rischia di finire nel peggiore dei modi. È stato prontamente rimosso lo striscione xenofobo che questa mattina è comparso sulla SS80 nei pressi del comune di Pizzoli. La questione dei migranti comunque nel popoloso comune aquilano esiste. Molti sono i richiedenti asilo e già una cinquantina sono arrivati e altrettanti ne arriveranno, come predisposto dalla Prefettura, che ha fissato un tetto massimo di 700 migranti per l'intera provincia aquilana. Il comune di Pizzoli ha presentato un progetto al Ministero dell'Interno per fornire l'accoglienza di secondo livello, ma da Roma ancora non è arrivata alcuna risposta. Su questa questione che riguarda i richiedenti asilo ci stiamo lavorando ormai quasi da un anno. Abbiamo informato l'agenda, abbiamo fatto tutte le azioni amministrative che era possibile fare per gestire nel migliore dei modi questo problema, tra cui anche la presentazione di un progetto SPRAR al Ministero. Dopodiché abbiamo incontrato il Prefetto e con il Prefetto abbiamo trovato una sorta di, tra virgolette, accordo, nel senso che a Pizzoli immigrati sicuramente verranno, così come ha definito, da quel bando che la Prefettura ha espletato. Però è chiaro che prima di mandarli qui e quindi arrivare al regime con i 106 che ci sono destinati, cercheranno in qualche modo anche di mandarli prima negli altri comuni dove magari ce ne sono di meno. E questa iniziativa da parte di Casa Pound la trovo assolutamente fuori luogo e fuori posto, perché loro ne fanno una questione xenofoa e non ci interessa a noi, perché Pizzoli è un comune accogliente ma che si sa difendere da solo quando è necessario rispetto a questi problemi. È chiaro che pure per noi 106 immigrati a Pizzoli su un totale di 700 in tutta la provincia sono troppi e questo lo abbiamo detto chiaramente, ma nei modi e nei luoghi opportuni. Quindi non è assolutamente necessario che si facciano queste uscite, dopodiché io ho già dato mandato agli operai di rimuovere lo striscione perché è ovvio che non vogliamo avere nulla a che fare con questa gente. Andrea Ianni, Pierfranco Ianni, Silvia Visconti e Antonello Alfieri sono i quattro sbandieratori del gruppo storico Città dell'Aquila selezionati per far parte della Nazionale Italiana. Questa mattina il sindaco Cialente ha voluto conferire agli sbandieratori a nome dell'intera municipalità un riconoscimento. Presenti anche Gianni Ianni e il consigliere comunale Adriano Duranti assieme all'assessore Cocciante, soddisfatto il primo cittadino dell'Aquila che parla di uno dei migliori gruppi in Italia, un gruppo che ha dietro tantissimo lavoro e sacrificio. L'obiettivo da cui a qualche anno ha detto il sindaco è diventare il gruppo migliore d'Italia. È stato un lungo percorso, fortunatamente è stato premiato, sono stati selezionati da un commissario tecnico, sono stati 60 ragazzi partecipanti, loro sono rientrati in questa rosa e per loro è anche una scuola perché si possono anche esibire insieme ad altri ragazzi che hanno molta più esperienza di loro, possono anche imparare. La scuola della Nazionale è grande, ci sono anche i musici e i sbandieratori. Ci vogliono ore e ore di allenamento, soprattutto molto impegno e molta passione. Noi già l'anno scorso ci siamo classificati al secondo e al terzo posto per quanto riguarda i campionati italiani Under 18. Quest'anno punteremo sicuramente ad avere un gruppo migliore, cerchiamo naturalmente di diventare il miglior gruppo d'Italia, anche se è molto difficile, c'è molto molto da lavorare. Sinceramente cerchiamo anche di trovare nuove reclude, nuovi ragazzi che si appassionino a quest'arte, anche perché dà la possibilità di andare in giro e soprattutto di vedere altre realtà e altri gruppi dai quali possono anche imparare nuove tecniche. Grazie. 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 Grazie.